Il titolo della giornata Il titolo della giornata di questo evento è la casa sulla roccia. La casa sulla roccia perché? Perché passano gli eventi, però il sigillo sicuro è qui sempre più forte. Come abbiamo raggiunto la casa sulla roccia bella solida? Ho trovato le tre C. Tanto la coerenza, quello che diciamo l'anno scorso, l'anno prima, l'anno prima ancora, sempre la stessa cosa, siamo estremamente coerenti. L'altra C è la costanza, lavoriamo costantemente, cioè come una goccia che sulla roccia scava, scava, scava continuamente e l'altra costruendo. Non stiamo demolendo, non stiamo distruggendo gli altri, non stiamo distruggendo le cose, ma stiamo costruendo. Il mio compito è di presentare la nuova generazione delle pompe di calore geotermiche. Vedere che il portale fosse a regime, decisamente molto intuitivo, siamo pronti insomma per fare questo passo. Perché se ci ho sbattuto il naso è perché non voglio sbagliare. Oggi voglio parlare di come prendersi cura di collaboratori, clienti, amici, fornitori, persone che ci stanno intorno. Noleggio operativo viaggia sempre a livello di pre-analisi. Sicilio Sicuro è sicuramente all'avanguardia. Parliamo di cose innovative. Queste giornate sono fantastiche. Per continuare la specializzazione sulle pompe di calore.